La vecchia amministrazione aveva mandato una corrispondenza per bloccare quei soldi che erano destinati a alcuni interventi della nostra città, 5 progetti già presentati, per poterli stornare sulla diga di Sueri. Quindi sono stati congelati a tal fine. Noi abbiamo iniziato un'interlocuzione, abbiamo fatto delle comunicazioni scritte ufficiali dove chiediamo di ritornare questi soldi per poter intervenire sulla città e di prendere i soldi per intervenire sulla diga, che sono molto più di 10 milioni, da altri fondi. Diciamo che la settimana scorsa abbiamo avuto la conferma che sul patto per il Sud hanno trovato questo finanziamento, quindi appena sarà firmato questo patto per il Sud questi soldi verranno sbloccati e quindi ripartire più nuovamente su questi progetti. La cosa che vorrei sottolineare è che in realtà c'è stato un grande lavoro fatto anche dalla Commissione Sviluppo Economico, il quale sta mettendo a posto tutti i pezzi di questo puzzle perché ci sono una serie di passaggi che sono detti, altri che non sono detti, creando solo confusione. I soldi di fatto non sono spariti, però adesso bisogna fare tutte le procedure per poter recuperare quei soldi che la vecchia amministrazione aveva tolto alla città. Questa missione è stata molto riservata, noi abbiamo atteso dei tempi proprio per poter fare chiarezza su quello che era successo, in quanto ci sono state delle informazioni inesatte e riteniamo non corretto che solo per fare della propaganda ancora così sterile si dicono delle informazioni imprecise. Poi anche chi sa e ha conoscenza precedentemente a qualche giorno fa di questi fatti aveva l'obbligo morale di farlo sapere in quanto che se non arriva il Comune di Gela a questi fondi arriverà un altro Comune e quindi Gela perde come sempre tanti milioni di euro che sono messi a disposizione per la nostra città. I progetti presentati e dichiarati da molti come consegnati, brevi mano, a Palermo non ci sono. Di fatto concludiamo quella missione e cerchiamo di metterci in contatto con l'amministrazione perché per noi il passo successivo è la prova del nome, cioè arrivare in Comune, verificare assieme al Sindaco se questi progetti sono stati consegnati, esistono, sono esecutivi e lì viene fuori un altro particolare che se è vero che ci sono, comunque per effetto di una legge che è entrata in vigore a maggio di quest'anno, il decreto legge 50 2016 che riforma totalmente la disciplina degli appalti, anche se ci fossero, bisognerebbe adeguarli alla nuova normativa. Quindi lì ci si ferma. Il resto poi è un compito dell'amministrazione. Quello che ha fatto per missione la Commissione lo ha compiuto e voleva agire secondo dei tempi che erano necessari per essere oculati obiettivi. Oggi siamo arrivati al dunque, quindi il Sindaco sa, per effetto di un lavoro svolto dalla Commissione, che le somme ci sono, sono 10-11 milioni più altri 6 disponibili. E la cosa che a nota e a conclusione del mio intervento vi dico, pensate addirittura che l'ingegner Armenio ci chiarisce che un comune che è Gagliano sulla quale ricadono pozzi di gas, di ultimo ha avuto finanziato un campetto sportivo per 600 mila euro.